L'andrangheta si era infiltrata nella curva dell'Inter che a sua volta faceva affari con la curva del Milan per la gestione dei biglietti per le partite, per la gestione dei parcheggi attorno allo stadio o anche delle bibite che venivano vendute all'interno dell'impianto sportivo. Per questo motivo la guardia di finanza di Milano insieme alla polizia hanno arrestato 19 persone e tra queste ci sono molti volti noti, tutti fanno parte dei gruppi ultras delle curve di Milan e Inter. Tra questi volti noti lato Milan abbiamo Luca Lucci che era diventato famoso per essere stato fotografato in campo a San Siro con l'allora ministro dell'interno Matteo Salvini, arrestato insieme a lui anche il fratello Francesco ma anche un'altra conoscenza milanese che è Cristiano Rosiello che è famoso per essere il bodyguard di Fedez ma anche per essere stato coinvolto nel pestaggio del personal trainer dei VIP Cristiano Moiovino. Insieme a loro tra gli arrestati un altro amico di Fedez che era stato fotografato con lui proprio alla settimana della moda di Parigi qualche giorno prima è Alex Cologno. Lato Inter invece ci sono altri volti noti e tra questi c'è Andrea Beretta che è stato arrestato per l'omicidio di Antonio Bellocco. Insieme a lui è stato anche arrestato un altro capo ultra della curva dell'Inter che è Marco Ferdico. Proprio Marco Ferdico è stato intercettato per alcune telefonate che sono state fatte all'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi intimandolo di trovare 200 biglietti per la finale di Champions e intimando di chiedere proprio la dirigenza della squadra e quindi anche a Marotta. Infatti queste 19 persone sono state arrestate con l'accusa di associazione alle elinquere ma anche estorsione e lesioni. Lesioni tra l'altro anche da alcuni giocatori tanto che si ipotizza che il calciatore screener calciatore dell'Inter si sia allontanato da Milano proprio per paura di questi contatti. Ma non solo calcio perché come abbiamo visto questi personaggi che gravitavano appunto attorno a San Siro e alle curve facevano tra virgolette affari anche all'esterno perché c'è stata una intercettazione tra Lucci e Fedez per quanto riguarda la vendita della bibita di Fedez Bohem all'interno dello stadio o anche con il cantante Amy Schilla che non è indagato come non è indagato Fedez ma è stato perquisito proprio per questa inchiesta. Inchiesta che sembra allargarsi sempre di più e che sembra anche coinvolgere attori fuori da quello che è il calcio e San Siro. Non sono indagati appunto altre persone oltre ai 19 capi Ultras ma le indagini continuano e vedremo cosa succederà.